La band è composta da cinque giovani usciti con il massimo dei voti dall'Istituto Scontrino di Trapani. La band si chiama Gli Elimi e viaggia di successo in successo. Abbiamo due componenti di questo complesso. Questa band nasce nel conservatorio di Trapani dove ci siamo conosciuti tutti insieme. Da un paio di annetti suoniamo insieme, produciamo musica nostra e abbiamo avuto un paio di successi. Due anni fa abbiamo vinto al Festival a Venezia, di recente abbiamo vinto al Sanremo Jazz, si chiama Uno Jazz e Blues e l'altro è il Cosenza Festival, il Nugest Festival a Cosenza. Grazia Buffa è la giovane cantante di questo complesso. Chi sono i tuoi colleghi con i quali voi suonate insieme? Allora, Roberto Provenzano alla batteria, l'abbiamo presentato prima. Io sono Grazia Buffa alla voce, Francesco Di Giovanni alla chitarra, Vito Vulpetti al basso e Giovanni Balistrieri al sax tenore. Grazie, tu preferisci qualche genere musicale in particolare? In quale direzione stai viaggiando? Ma noi già facciamo il nostro genere musicale che spazia sul jazz, soul, blues, insomma, facciamo un po' di tutto. Ed è proprio ciò che ci rappresenta più in assoluto il mio genere, questo quindi sì. Roberto, una casa discografica ha messo gli occhi su di voi. Beh sì, grazie al Nugest Festival, che ringraziamo sotto l'associazione Blowing on Soul di Elisa Brown, abbiamo avuto l'opportunità di registrare un disco alla Tube Recording Studio per la M-Label di Enrico Moccia e andremo a registrare quest'inverno per far uscire il disco entro gennaio-febbraio. Grazie, i tuoi sogni nascosti? I miei sogni nascosti li sto realizzando con questa band meravigliosa, attraverso un disco che stiamo realizzando, anche con Enrico Moccia, la M-Record, che salutiamo. Insomma, abbiamo tanti progetti, tanto da fare, tanta musica ancora da progettare e da far ascoltare a tanta gente.